Sto cercando la strada per il Nettuno, perché Nettuno mi può giudicare, anzi Nettuno meglio di me è in grado di poter animare All'interno del Nettuno, su tutto il centro di Bologna, la voglia di rimanere il 21, sabato 21, dalle 10.30 Diciamo che dalle 10 saremo pronti, ma dalle 10.30 perché devo prendere un caffè fino alle 16 Divertimento assicurato ma soprattutto voglio interagire con tutti quanti voi, con tutti quanti quei ragazzi Con i passanti, con la gente che attraverso magari anche la banda, che inizierà a fare un bel body animazione Attraverso il saltometro, attraverso una rete dove cercheremo di far giocare pallone insomma L'idea è quella di cercare di animare questa piazza per lanciare poi quello che sarà l'evento meraviglioso Della Final Four, di questa superlega fantastica, che è la del monte Final Four, Final Four, Final Four Nettuno? Qual è Nettuno?